Musica Splendida ambientazione per una delle iniziative che saranno realizzate sulla montagna pistoiese per la prima edizione del festival musicale Eat in Jazz che si svolgerà a Pitegioro il 24 al 26 agosto. Nell'agriturismo Le Dogane, al ponte di Castruccio, uno dei più importanti e suggestivi spazi storico-architettonici della montagna pistoiese, nei giorni del festival si svolgerà uno stage con incontri sia al mattino che al pomeriggio dedicato alla musica, con docenti Michele Marini, Lorenzo Frati e Emiliano Barrella. Proponiamo praticamente tre stage di strumento, sassofono o clarinetto, batteria jazz e pianoforte jazz o tastiere. Sono tre stage mirati diciamo allo studio dell'improvvisazione jazz ma comunque che strizzano l'occhio anche ad altri generi musicali e anche al perfezionamento appunto dello studente proprio sulla tecnica esecutiva, sull'espressione dello strumento. A chi si rivolge questa iniziativa? Si rivolge soprattutto ai giovani, ai giovani emergenti che hanno voglia di studiare e che hanno voglia anche di passare dei bei momenti spensierati nella natura perché questo seminario verrà alla luce per la prima edizione in questa cornice meravigliosa del ponte di Castruccio all'agriturismo Le Dogane. Come avete organizzato questi stage? Li abbiamo organizzati e li abbiamo voluti fortemente insieme ai nostri partners, ai nostri sponsor che ci stanno sostenendo appunto per questa iniziativa che sono la fondazione Luigi Tronci, l'associazione culturale Culturidea e anche Pape Caon che è praticamente una ditta artigianale qui di Pistoia che produce da un po' di tempo Caon appunto della zona qui, proprio prodotti in Pistoia, made in Pistoia. Grazie 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 Grazie